pavolo giallorosso buongiorno a tutti voi benvenuti in questo nuovo video allora ma come ci si sveglia dopo una partita del genere dopo la partita di ieri sera come vi svegliate lunedì mattina io ragazzi ieri ho evitato di fare il video del commento della partita perché non ero veramente lucido troppe emozioni troppe 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 troppa cose che sono successe ieri ho avuto quattro infatti tre aneurismi e due ictus a un certo punto ho detto ma vado in farmacia a comprare un defibrillatore perché a fine partita io non ci arrivo così ieri è stata veramente la vittoria del cuore secondo me la vittoria oltre ogni ostacolo per come questa partita era sapevo che sarebbe stata complicata per tanti motivi ma lo è stata ancora di più grazie comunque a un sassuolo che dionisi ha messo in maniera veramente eccellente in campo ieri ci ha messo in serie a difficoltà ma io ne ero consapevole fin dalla vigilia come era prevedibile murinio non fa turn over e manda in campo la migliore roma possibile cioè la roma titolare a parte smolling che sta recuperando dall'infortunio per cui lui patrissio in porta coppia centrale ibanez e mancini sulle fasce pigna e casrop c'è nea di centrocampo con i soliti cristante beretù pellegrini vichita rian e zagnolo dietro al bravo voi sapete benissimo che questa partita era complicatissima per tanti motivi primo perché la roma fisiologicamente proprio dopo ogni sosta fa fatica poi a riprendere il ritmo ritmo partita e compagnia bella vuoi perché comunque il sassuolo negli ultimi due anni è un po considerata la nostra bestia nera visto che l'anno scorso ci abbiamo pareggiato in casa e perso fuori ma anche l'anno precedente e soprattutto perché le condizioni fisiche della squadra non erano sicuramente le migliori con tutti i giocatori che sono tornati dalle rispettive nazionali se voi tenete presente che vigna è tornato venerdì notte dal tre partite con l'uruguay c'era avuto anche un leggero problema di contratture ha giocato quasi tutta la partita se non tutta la partita se non ricordo male michi italiana ha giocato tre partite con l'armenia veretù ha giocato le partite con la francia facendo anche le trasferti in ucraina e compagnia bella i vari cristante hanno giocato tutta la partita con la lituania i vari mancini zagnolo e pellegrini erano rientrati anticipamente dalle nazionali perché avevano acciacchi vari insomma sapevo benissimo che dal punto di vista fisico la roma ieri sera avrebbe pagato tutte queste cose infatti l'ha pagata un pochettino è stato un primo tempo molto equilibrato magari ha fatto un po più di possesso palle il sassuolo però senza creare grossi pericoli perché poi alla fine la maggior parte delle azioni pericolose sono rivelate in fuorigioco gol annullato giustamente a berardi la roma ha il merito comunque di tenere abbastanza bene il campo abbiamo avuto un'occasione con abram e poi andiamo in vantaggio su un'intuizione di pellegrini su punizione inserimento di cristante gol del 1 a 0 cristante che è uno di quei giocatori rivitalizzati alla grande da murigno e termina il primo tempo 1 a 1 1 a 0 scusate e andiamo negli spogliatoi nel secondo tempo ragazzi è successo veramente veramente di tutto perché le squadre sono allungate la roma comunque nel secondo tempo paga un centrocampo che ha fatto poco filtro perché ieri veredù veramente in difficoltà l'ho visto sulle fasce abbiamo sofferto molto perché bocca e berardi hanno messo in difficoltà vigna e casdrop comunque mkhitaryan non ha fatto una buona partita perché veniva comunque dagli impegni con la nazionale lo stesso zagnolo l'ho visto un po in ritardo di condizione abram ha corso tanto ha preso l'ennesimo palo però ieri obiettivamente meno meglio delle altre volte per cui ragazzi nel secondo tempo dopo il palo di abram sassuolo veramente ha avuto due occasioni clamorosissime per andare in vantaggio dopo il pareggio di giuric su un'azione di berardi lì forse si poteva fare qualcosa in più mancini forse poteva coprire meglio su giuric però ragazzi uno a uno e lì la roma comunque ha cominciato un po a soffrire perché si siamo allungati troppo quelli del sassuolo partivano in contropiede con le praterie proprio spalancate in due occasioni su berardi e su bocca davanti alla porta soli ha fatto dei miracoli strepitosi lui patrizio che ci ha tenuto a galla anche se poi la roma non ha del tutto demeritato nel secondo tempo anzi ha avuto anche lui anche loro anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni clamorose quell'azione due azioni di anzi le tre azioni di pellegrini col tiro dalla destra poi l'azione personale quell'altro tiro ribattuto il tiro di vigna il palo di abram che nel secondo tempo ragazzi vi ripeto è stata una partita una partita veramente bellissima e comunque di sofferenza perché c'erano azioni contemporaneamente da una parte e dall'altra ma obiettivamente ieri la roma pur meritando la vittoria perché l'ha meritata l'ha meritata su tutti i livelli perché poi alla fine ci ha creduto murini ha fatti i cambi per vincere la partita nonostante sapesse che la squadra magari fisicamente non era al meglio però ha fatto un ragionamento da da vincente dice a me del pareggio me ne importa niente o rischio di vincere o rischio di perderla e poi alla fine l'ha portata a casa perché poi il gol lo confezionano i due entrati show muro to assist e sharawi che si inventa quel tiro al giro sulla sul secondo palo che entra in porte lì ragazzi c'è stata l'esplosione di gioia incontenibile veramente incontenibile ed è una vittoria del cuore ragazzi perché la squadra comunque ha sofferto comunque ha subito magari in alcuni frangenti della gara però non ha mai mollato non ha mai mollato e questa è una cosa fondamentale per una squadra che deve rilanciarsi che deve provare andare in champions league chiaramente ieri ci ha detto anche bene a mio modo di vedere forse il pareggio sarebbe stato un risultato più giusto per ieri sera perché comunque il sassuolo ci ha messo veramente in difficoltà ci ha fatto soffrire ci ha messo sotto ripeto ripatizio ci ha salvato in due occasioni in maniera clamorosa però la roma comunque se l'è portata a casa con merito perché anche lei comunque nel suo tempo ha avuto le sue occasioni le sue palle golle l'ha portata a casa al 91esimo mi ha preso un altro mezzo infarto quando ha segnato scamacca al 93esimo ma lì fortunatamente era fuori gioco però è chiaro ragazzi che c'è tantissimo ancora da lavorare dobbiamo vederci la partita dopo partita è importante vincere ma come ha detto murigno comunque tante volte verranno anche le partite in cui perderemo in cui dovremmo rimanere compatti dovremmo ripartire riprenderci però un inizio di stagione così positivo a roma non si vedeva da circa tre anni tre vittorie in campionato più il preliminare di conference vinto sono contento ragazzi sono felice sono contento consapevole che la strada è lunga e difficile però consapevole anche che questa è una squadra totalmente diversa dall'anno scorso perché questo tipo di partita l'anno scorso le avresti perse 3 4 a 1 in casa proprio sicuro al cento per cento perché dal punto di vista caratteriale l'anno scorso eri abbastanza fragile invece quest'anno murigno chiaramente gli ha dato un'altra impronta e quindi guardiamo avanti ragazzi con positività con serenità adesso ci aspetta la partita di giovedì in conference in casa col csk sofia dove credo che giochino un po di riserve e poi andremo avanti in campionato ragazzi buona colazione buona giornata fatemi sapere cosa ne pensate del video commentate tanti like e niente vedevo ancora riprende ragazzi perché le emozioni ad insieme di ieri si sono fatti sentì alla grande quindi per adesso vi saluto e ci vedremo per le pagelle ciao